qui intanto c'è l'attacco di Pellissier e subito il pericolo per la porta di Dida Pirlo in area colpo di testa e parata di Squizzi su Calazze che fa gol bella azione parata di Squizzi e per poco non arriva il 2 a 0 Gilardino Calazze è solo Calazze punta va dentro e manca Shevchenko il 2 a 0 ancora un cross colpo di testa e poi Franceschini che rimette dentro il controllo di Pellissier che non riesce a calciare ancora Amaury poi al limite dell'area di rigore arriva Giunti Giunti prova a liberare Franceschini Franceschini un rimpallo su Nesta e rinvio di Stam poi da fuori Malagò palo di Malagò il cross è di Giunti palla dentro Pellissier Pellissier pareggio del Chievo con Pellissier Giunti attaccato da Gattuso è rimasto a terra Gattuso prosegue l'azione del Chievo il tiro di San Marco Dida si è buttato Amaury che punta Nesta vince il rimpallo se ne va Amaury Amaury parata di Dida Tiribocchi cerca l'1-2 con Obina se ne va Tiribocchi Tiribocchi grandissimo gol di Tiribocchi il Chievo è in vantaggio 2-1 batte Giunti la punizione a vuoto Kakà Inzaghi grande intervento di Squizzi su Inzaghi è finita Chievo batte Milan 2-1 il Milan rimane a 31 e conosce la sua terza sconfitta in campionato